buonasera buonasera a tutti e tutte tifosi viola tifose viola tifosi e tifosi di altre squadre bentrovati bentornati sul primo video pre partita del 2021 del viola canadese prima di tutto ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto seguitemi su instagram come vedete appunto nel nel riquadro alla mia destra o sinistra non lo so in questo momento il mio instagram il mio nome instagram è gabe trattino basso corner trattino basso podcast questo sarà un video breve perché ho già fatto un pre partita una live pre partita oggi con molti ospiti c'è stato otis c'è stato frank bianconero ci sono stati milanisti del web c'è stato il grande lello appunto colpo gobbo e insomma siamo stati tanti siamo stati bene e abbiamo fatto un po un'analisi di quello che era il diciamo che sono state le feste e diciamo come le squadre di serie a arriveranno a questo rientro nel campionato e io ho detto che la fiorentina non ha una partita facile perché è vero che abbiamo vinto con la juve per ben 3 a 0 in casa loro però è una partita a sé come hanno detto sia biraghi dopo la partita contro la juve sia prendelli ieri in conferenza stampa bisogna far sì che che si dia continuità dei risultati perché la partita della juve può essere una svolta diciamo la vittoria contro la juve può essere una svolta solo nel momento in cui troviamo continuità dei risultati sulla carta il bologna non è una partita impossibile un avversario impossibile un avversario che ha una rosa inferiore alla nostra secondo me però non va sottovalutato perché hanno un centro un centro campo molto denso giocano molto intensamente attaccano con 3 o 4 uomini più gli esterni e quindi potremmo avere difficoltà se non copriamo bene se non facciamo filtra centro campo io comunque ritengo la partita fattibile la ritengo possibile io pretendo voglio una vittoria domani voglio tre punti perché dobbiamo dare continuità a dei miglioramenti si sono visti nelle ultime tre partite in casa appunto contro sassuolo e verona soprattutto sassuolo perché col verona avevamo fatto un buon primo tempo ma un secondo tempo abbastanza in colore e appunto dare continuità alla buona prestazione la grande prestazione vista contro la juventus appunto in casa loro vinta di nuovo per 3 a 0 diciamo senza offesa per i miei amici juventini ma un bel godimento quello e quindi che dire io come ha detto brandelli farei giocare sembra a quanto pare il buon borcavalero regista anche se non so se può reggere tutta la partita riproporrei la appunto la formazione vista contro contro la juve anche se non ci sarà biraghi perché è squalificato non voglio parlare di mercato oggi perché sarebbe prematuro visto che c'è da giocare una partita e se ne giocherà un'altra anche durante nel turno infrasettimanale quindi mi pare mercoledì o giovedì e il mercato verrà sicuramente affrontato dalla società viola nelle prossime settimane io non so cosa aspettarmi vorrei vedere appunto magari un attaccante di spessore un caicedo o magari un alfredo morelos se no appunto cioè se no se no potremmo rimanere con quello che abbiamo e magari puntare a spendere per un centrocampista per un regista che possa alternarsi con borcavalero a quanto pare il nostro obiettivo estivo il buon torrera non sta trovando spazio all'atletico madrid potrebbe ritornare sul mercato e squadre come fiorentina e torino sembrerebbero interessate con la fiorentina sembrerebbe leggermente in vantaggio ma non so nemmeno se possa definirsi una trattativa vera oppure possa essere solo un come posso dire un diciamo una voce di mercato messa lì da alcuni agenti che vogliono appunto un po mettere mettere lì delle voci per dare anche un qualcosa da scrivere ai giornalisti ecco tornando alla partita io mi aspetto di rivedere magari igor in in campo a meno che appunto caceres non stia benissimo e possa appunto entrare nella difesa 3 come titolare insieme a pezzella e milenkovich vorrei vedere un lirola titolare sulla sulla destra appunto anche se non so come giocheremo perché se giocheremo come contro a juventus quindi con un con gli esterni leggermente più difensivi giocheremo con barreca a sinistra e con caceres a destra barreca appunto perché biraghi è squalificato diciamo che la formazione credo sia fatta così almeno almeno di non almeno che non ci siano colpi last minute come posso dire delle diciamo dei cambiamenti last minute io ripeto non so se verrà utilizzato lì rola lo vorrei vedere più in campo è vero che brandelli ha detto molte volte che che gli piace venuti che l'ha soprannominato un piccolo jorgensen perché gli ricorda appunto a livello di volontà gli ricorda il buon vecchio martino però è anche vero che no caceres che lì rola avrebbe più alte potenzialità anche per cambi passo appunto sulla fascia se invece vogliamo essere cauti mettiamo caceres di nuovo come terzi diciamo come terzino come esterno di sterno a tutto campo di centrocampo però saremmo più difensibili diciamo che questa è una scelta difficile visto che contro la juve era quasi obbligata perché con una squadra forte come la juve ti devi difendere col bologna vorrei che si facesse gioco e si attaccasse quindi vorrei vedere magari un giocatore più offensivo come lì rola in campo per il resto la formazione è fatta con il solo barreca a sostituire i biraghi e ragazzi io vi chiedo di di nuovo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto vi chiedo di seguirmi sui social specialmente instagram vi chiedo appunto di commentare sotto e di dirmi cosa ne pensate di questo format tra poco sicuramente cambierò webcam avrò novità a livello grafico sul canale quella di oggi è un po un esperimento come vedete appunto sul sul sulla mio lato appunto e ne porterò altri questo è un esperimento mi vedrete un po sperimentare col canale spero sia di vostro gradimento ragazzi e ragazze io vi mando un abbraccio virtuale ci vediamo domani nel post partita di fiorentina bologna ciao 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 ciao